Tropea terzo anno di manifestazioni natalizie. Siamo finalmente giunti alla terza edizione del villaggio di Natale. Stasera abbiamo l'accensione delle luminarie alla presenza dell'artista soprano, cantante soprano Gemma Fazzari e del maestro Francesco Pata. Intoneranno due splendide canzoni di Céline Dion e durante proprio l'esibizione delle canzoni si accenderanno le luminarie in maniera simbolica e daranno il via proprio all'apertura del villaggio di Natale. È passato questo weekend, tutti i weekend successivi ci saranno eventi di musica e di teatro che allieteranno tutta la stagione natalizia. Finiranno al 6 gennaio, quindi venite numerosi e vi aspettiamo. Come andiamo. Yeah! No! Come andiamo! Ehi! Doe vi saluto! No! Vi saluto! No! No. No!